Si intitola Bottega dal Maestro, è la mostra organizzata dall'Associazione Quartiere di San Giuliano nei locali, sede dell'Associazione qui all'ingresso del Vicolo della Gora, nel cuore del quartiere di San Giuliano per proporre tante opere di oltre 30 artisti locali. Il perché è finalizzato ad una serata di gala, il Gala del Mecenate, il prossimo 2 aprile nel quale ci sarà una vera e propria asta di queste opere, opere che sono in esposizione con un gioiello in particolare, addirittura un pezzo di Mastro Giorgio Andreoli. Ma andiamo a conoscerne di più con il Presidente Francesco Pascolini. Abbiamo bisogno di un'iniziativa che fosse originale e che ci permettesse di far sì in fondo che la città di Gubbio aiutasse se stessa e che quindi il tessuto sociale o gubbino aiutasse il volontariato che per contro, poi per ricaduta, porta utilità al territorio gubbino. Quindi un circolo virtuoso lo definirei. Abbiamo immaginato in maniera, credo anche sì, originale, un po' pionieristica, questa formula. Abbiamo contattato artisti ed artigiani locali chiedendo loro di omaggiarci una loro opera o un'opera inedita o un'opera comunque sia già prodotta precedentemente con lo spirito appunto del contributo spontaneo. Con queste opere immaginiamo la sera di sabato 2 aprile di fare una serata di gala che è il gran gala del mecenate in cui nel corso di questa cena noi metteremo all'asta queste opere di fronte ai Gubbini sensibili all'arte o comunque sia desiderosi di dare il loro contributo alla nostra associazione e quindi al volontariato locale. Abbiamo immaginato il colpo d'effetto, no? Come far sì che Leo Gubbino, comunque sia un interessato, avesse voglia di venire a visitare questa mostra. E allora abbiamo immaginato di cercare... Ci siamo riusciti poi col contributo di una collezionista privata e Gubbina che tra l'altro ci ha chiesto di poter restare nell'anonimato di avere in concessione per tutta la durata della settimana di mostra un piatto mai esposto di Mastro Giorgio Andreoli. Un piatto borchiato di 23 cm di diametro che rappresenta appunto l'Agnus Day e pensiamo che sia un elemento d'attrazione non da poco in una mostra visitabile gratuitamente da tutti gli Gubbini nel corso di questi sette giorni. Se gli Gubbini non avranno modo, interessati a questa forma di contribuzione per il volontariato locale, non avranno modo di partecipare alla sera di gala del 2 aprile e quindi all'asta potranno comunque in occasione di questa mostra questo è un elemento molto importante, anche questo secondo me originale già fare un'offerta in busta chiusa che diventerà fondamentalmente una base d'asta o anche un valore di attribuzione dell'opera.